Manuè, buongiorno, come si via tu? Su capito tagliato oggi è su top, su becco pettinato, ecco muiamo. Il mio maestro mi ha detto, quando ti trovi in certe situazioni, mantieni la calma, contieni la rabbia, non rispondere mai agli attacchi. Pesso di merda figlio di puttana, non mi toccare, vaffanculo! Vaffanculo! Mi coglioni, ma ho visto pure l'Adenoide. Eh, salutamele. Ma qua ci sta a culare a nessuno. Oh, e tacci tua. La sciosta furvio in caffone. Tranquilla, mozo, signore. Allora, bagliatelle in salsa squadra, ringrazio. Per lui e più polotti alla carcagnera per lei. Scusi, ma questa è una cacola. È in omaggio, signora. Ma la voglio pure io. Mario, chiamano un po' il cameriere. Ma che devo fare? Non mi stanno a cac... Eh, scusi. Più forte, ma chiamalo per nome. Il cazzo lo conosce, bebe, capo! Cione, è un attimo, c'ho da fai, chicco. Ma ringrazio tanto. Dai, zì. Ma riammazzano. Ma veramente buone, complimenti al chef. Anzi, cosa sa che ti dica? Ma mi ordino un'altra cosa. Garzón. Eccolo. Che c'è morti, luciucciotti alla piastra, per favore. Arrivero subito. Oh, vabbè, annaffacculo, va. Namo, se n'amò. Ma ti vai trattare così da sto buzzurro? Ma che soccola, mostre persone ormai manche le garcole. Come hai i corna che c'hai? Prego, scusa. Ho detto che c'hai due corna che bocano pure il contro soffitto. C'è tua, 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 tua. Amo, c'è la camicetta macchiata. Perché ne hai visto le mutande?